Salve, mi chiamo Diego. Sono un medico e in questo video vi dirò tutto quello che c'è da sapere sulla Vitavisine e vi darò anche un avvertimento molto importante per non mettere a rischio la vostra salute, quindi prestate molta attenzione a questo video e rimanete fino alla fine per non perdere nessun dettaglio. Vi starete chiedendo che cos'è Vitavisine e se funziona davvero. La risposta è sì, Vitavisine è un prodotto completamente naturale, a base di estratti naturali. La formula aiuta a mantenere lo stato funzionale dell'organo visivo e normalizza i processi metabolici dei tessuti oculari in condizioni di forte affaticamento degli occhi, esposizione a luce intensa e raggi UV, portatori di lenti a contatto e occhiali. La Vitavisine è utilizzata per prevenire lo sviluppo o la progressione di malattie quali, neurite ottica, infiammazione del nervo ottico, cataratta, corioretinite, infiammazione della tunica vascolare del bulbo oculare, distacco della retina, cheratite e congiuntivite.La Vitavisina è certificata di qualità ed è stata sottoposta a una dozzina di studi clinici che hanno stupito l'intera comunità medica. Tra i vantaggi evidenti del prodotto, sottolineo l'assenza di effetti collaterali e una composizione eccellente e ben studiata. L'estratto di mirtillo rafforza i vasi sanguigni e ha forti proprietà antibatteriche. Il mirtillo non solo ripristina i meccanismi protettivi dei tessuti retinici, ma promuove anche la rigenerazione del pigmento sensibile alla luce, la rhodopsina. Il betacarotene contenuto nel prodotto è molto importante per i fotorecettori dell'occhio e normalizza i processi metabolici della cornea. Posso sicuramente consigliare questo prodotto a chiunque abbia problemi di vista o voglia prevenirli. Perché è uno dei prodotti più venduti Vitavisina è stato utilizzato da migliaia di persone in tutto il mondo e nessuno ha lamentato effetti collaterali. Se soffrite di miopia e presbiopia, danni al nervo ottico, malattie infiammatorie, anomalie retiniche, astigmatismo o cataratta, basta assumere una capsula due volte al giorno durante i pasti e in poco tempo vedrete migliorare l'acuità visiva, ridurre il rischio di malattie oculari, ridurre gli effetti dei radicali liberi, ridurre i sintomi spiacevoli e nutrire i tessuti oculari. Ma fate molta attenzione solo il Vitavisina originale può fornire tutti questi benefici la grande richiesta di. Questo prodotto ha portato alla comparsa di molti falsi ma il Vitavisina originale è venduto solo sul suo sito ufficiale. I prodotti falsi non solo non funzionano e vi fanno perdere soldi ma possono anche mettere a rischio la vostra salute. Per aiutarvi ho inserito il link al sito ufficiale nella descrizione di questo video. In questo modo potrete essere sicuri di ricevere il prodotto originale. Cliccando sul link nella descrizione sarete reindirizzati al sito ufficiale e potrete effettuare l'ordine. Basta compilare i campi con il proprio nome e numero di telefono e attendere la chiamata di un rappresentante che deciderà con voi la quantità da ordinare. Il prodotto arriverà a casa vostra in pochi giorni e pagherete solo quando lo riceverete. Se non siete ancora sicuri se acquistarlo o meno Vitavisina offre una garanzia di rimborso di 30 giorni. Se il prodotto non è di vostro gradimento per qualsiasi motivo, potete contattare l'assistenza per ottenere un rimborso completo. Ma affrettatevi! Migliaia di persone in tutto il mondo stanno scoprendo gli effetti sorprendenti di Vitavisina e ne ordinano fino a 3 unità alla volta. Per mantenere la qualità del prodotto, vengono prodotte solo 2000 unità di Vitavisina all'anno, il che significa che potreste esaurire la vostra, quindi affrettatevi ad acquistarla prima che si esaurisca. Ricordate che questo prodotto è venduto solo sul sito ufficiale e il link al sito ufficiale è nella descrizione di questo video. Spero che questo video vi abbia aiutato, che possiate essere con Dio. A presto!